Grazie a tutti! Usa la levetta analogica a sinistra per muoverti e la levetta analogica a destra per mirare! Ricorda, puoi sempre muoverti in una direzione e sparare in una! Ricorda, puoi sempre muoverti in una! Ricorda, puoi sempre muoverti in una! Ricorda, puoi sempre muoverti in una! Per l'analisi del mio sensore di paranormale, quella specie di pappetta è proprio ectoplasma allo stato puro! Secondo me è questa la fonte di energia di quei generatori di elettricità! Ricorda, puoi sempre muoverti in una! Ricorda, puoi sempre muoverti in una! Ricorda, puoi sempre muoverti! Ricorda, puoi sempre muoverti in una! Grazie a tutti.